Anticipazioni Beautiful, Steffi Forrester, ovvero Jacqueline McInnes Woods, lascia Beautiful, ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi parleremo di uno dei personaggi più importanti della popolare sop'opera Beautiful, ovvero Steffi Forrester e dei rumors che indicano una sua possibile uscita dallo show. Steffi, interpretata dalla talentuosa Jacqueline McKinney, è un personaggio amato dello show sin dal suo ritorno nel 2008. Come personaggio di lunga data, i fan l'hanno vista crescere e evolversi diventando un acceo di successo. Moglie e madre, la sua vita sentimentale è stata un punto centrale delle trame, in particolare il triangolo amoroso con Liam Spencer e Hope Logan. Tuttavia, Steffi si è finalmente lasciata alle spalle Liam ed è ora felicemente sposata con Joan Finnegan. Nonostante la loro importante trama, sono circolate voci che indicano una possibile uscita di Steffi dallo show. La natura imprevedibile del casting nelle sop'opera ha alimentato queste speculazioni, così come la notizia della gravidanza di Jacqueline McKinney. Prima di scoprire cosa aspettarci, se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale per nuovi video quotidiani. Tuttavia, né il produttore dello show né l'attrice hanno confermato questi rumors, quindi i fan possono stare tranquilli che Steffi Forrester non lascerà Beautiful a breve. Possono continuare a godersi l'interpretazione di Jacqueline McKinney di questo amato personaggio negli ultimi 15 anni. Steffi ha affrontato molte sfide nello show, diventando CEO di Forrester Creations e madre di due figli. La sua crescita e sviluppo come personaggio sono stati un elemento significativo dello show e la sua presenza è stata apprezzata dai fan in tutto il mondo. Una possibile partenza di Steffi lascerebbe senz'altro un vuoto significativo nello show e speriamo che questi rumor si rivelino infondati. Come fan, abbiamo imparato ad amare e seguire questo personaggio e non riusciamo a immaginare lo show senza di lei. Quindi, mentre circolano voci sulla possibile uscita di Steffi da Beautiful, né il produttore né l'attrice hanno confermato queste indiscrezioni. I fan possono continuare a godersi l'interpretazione di Jacqueline McKinney di questo amato personaggio nello show.